buongiorno benvenuti a questa zuppa di porro allora ci sono tante cose questa mattina da raccontare anche perché questa mattina i giornali mi sono svegliato le 5 per girare un video promo del prossimo programma che farò sul rete 4 anzi se andate sulla mia pagina instagram vedrete qualche backstage ma comunque essendomi svegliato alle 5 questa mattina ho letto un sacco di roba sui giornali e oggi mi sono divertito perché ci sono tantissime spigolature vorrei partire dalla spigolatura più spigolatura di tutte perché se non sbaglio l'ho letta buongiorno bibiana l'ho letta soltanto su un taglio basso a hug jason un taglio basso della stampa cioè uno di quegli articoli che sono in fondo nelle pagine interne della stampa vasco rossi è in pensione cioè dopo 40 anni di iscrizione all'empals che sarebbe l'inps degli artisti anch'io sono stato iscritto per 4 5 anni pur non essendolo ma obbligato da rai a entrare nell'empals insomma deve e può accedere anzi ha chiesto ha fatto richiesto di pensi richiesta di pensione per me è una notizione ci avrei l'uomo di gioa che per noi è stato fantastico vado al massimo ma insomma una vita spericolata colpa d'alfredo insomma che vada in pensione come un tra re o come me mi sembra una cosa incredibile taglio basso andiamo invece sulle notizie serie di giornata quelle della politica che ci fanno anche due palle così perché ormai i giornali si divertono sugli scontri o presunti itali all'interno del governo e oggi il caso degli scontri riguarderebbe la liberalizzazione delle armi state attenti in realtà è evidente che ci sono sfumature diverse all'interno del governo quello che io penso che noi giornalisti andiamo sempre a un po' esagerare le piccole divisioni che ci sono pensate un po' voi se qualcuno ciao luca mitico donadella un grande saluto luca e pensate un po' voi se qualcuno si mettesse a fare le pulci come noi le facciamo ai politici di quello che succede nelle radazioni dei giornali direbbero che nei giornali c'è vietnam non le divisioni però noi non adottiamo il metro nostro ai politici che invece deve essere tutti quanti d'accordo soprattutto se in coalizione e quindi la minima dichiarazione diversa diventa scontro all'interno del governo questo sarebbe sulla legittima difesa in cui la posizione del movimento 5 stelle sarebbe diverso ma lo è diverso rispetto a quella della lega lo scontro vero c'è invece e non è una barzelletta con gli industriali perché gli industriali dicono che il decreto dignità porterà meno investimenti meno crescita e meno posti di lavoro ebbene io sono totalmente d'accordo sulla posizione degli industriali vi ho già detto mille volte che questo decreto secondo me è una gigantesca enorme cagata e che fra qualche anno lo ricorderemo esattamente come ricordiamo la fornero i suoi soldati cioè i danni che farà fra un po di anni ce ne accorgeremo il vero problema sapete qual è è la credibilità della confindustria e lo dico con affetto perché sono d'accordo nella loro analisi ma la confindustria è la stessa che aveva detto che dopo la bocciatura del referendum di renzi il pilo italiano sarebbe decresciuto ci sarebbero state le cavallette sono arrivati i leghisti e il movimento 5 stelle ma non certo le cavallette e non è diminuito il pilo italiano così come non è diminuito l'occupazione in gran bretagna la loro credibilità negli studi dunque è un po minata dal terreno politico sul quale loro stessi si sono colpevolmente messi sul referendum di renzi di maio dice che si tratta di terrorismo psicologico beh insomma qui lo scontro c'è e la cosa fondamentale secondo me sacrosante della confindustria che continua su un aspetto non è l'aggravio dei costi che c'è ma sulle causali e le causali le causali per i contratti a tempo determinato renderanno i contratti a tempo determinato di fatti di fatto burocratici e impossibili e quindi al primo rinnovo dopo i primi mesi o prima o dopo i dodici mesi nonostante non si possa arrivare oltre 24 gli industriali ci penseranno cento volte prima di fare questi cavoli contratti a tempo determinato quindi quello che succederà è nel mondo oggi del lavoro ben descritto da una tabella del Corriere della Sera in cui ci sono 15 milioni di persone a contratto a tempo indeterminato poi ci sono 3 milioni a tempo determinato e 5,4 milioni di autonomi sapete che cosa succede diventeranno tutti indeterminati una parte di questi diventerà nero una parte di questi diventerà false partite iva o dipendenti a tempo indeterminato delle cooperative soltanto uno che non ha mai fatto un cazzo nella vita non si rende conto di questa banale assunzione che se tu inventi un decreto per rendere complicato il contratto a tempo determinato ci sarà un mondo per cui il mercato si troverà una soluzione diversa rispetto a quella del legislatore che dice tutti i contratti a tempo indeterminato bravi tutti felice bravi più cocaina per tutti all'interno del governo mi stupisco come il la verità di un di del pietro più leggo sempre con grande attenzione oggi dice tornano i voucher e bonus assunzioni ma ma la confindustria attacca il governo beh fantastico no cioè la verità di bel pietro uomo che conosce buongiorno corrado bel pietro conosce bene le questioni dell'economia secondo me oggi si sta facendo trascinare lo faccio anch'io spesso dalla diciamo un po da come possiamo dire un po dalla scarsa attenzione di quanto potrà far male questo decreto dignità perché intanto bisogna vedere i voucher che metteranno bisogna vedere la burocrazia che metteranno i voucher e il fatto di aver fatto una cosa buona aver ristabilito i voucher non toglie il danno fatto dal decreto dignità andiamo su un altro tema di cui si occupa soltanto il giornale oggi e anche un taglio del corriere della sera assia mi sembra che si chiami montanino sarebbe assunta mantonanino una ragazza di 26 anni che il giornale ieri scopre che è l'assistente segretaria particolare di di maio l'assistente di 26 anni che nel suo curriculum cosa c'ha aver lavorato come tirocinante di di maio quando era vicepresidente della camera non ha nessun altro expertise guadagna 72 mila dollari italiani cioè gli euro va benissimo è stupendo tutto normale la trasparenza di cui parla il momento 5 stelle no visto che loro sono per la trasparenza il tetto gli stipendi pubblici visto che un consigliere di amministrazione rai che hanno appena nominato non guadagnerà 60 mila euro e se c'è la pensione non li prenderà insomma all'omaggio del grande grillismo per il quale neanche un parlamentare dei grillini guadagna quella cifra lorda perché deve restituirne grande parte bene in omaggio a questa trasparenza giornale semplicemente ieri si è messa a rilevare che una ragazza con paesana di di maio guadagnava 72 mila euro e senza curriculum ne faceva l'assistente oggi cosa scopriamo che non solo dal corriere della sera è capo della segreteria del ministero del lavoro ma è segretaria particolare del ministro dello sviluppo economico quindi la stessa persona due incarichi e lei si lamenta dovrei avere due stipendi ne ho uno solo ma la cosa per cui io mi indigno no l'indigno non riesco a farlo perché una cosa che mi fa schifo le persone indignate mi incazzo è che lei dice siete dei sessisti voglio vedere se se una cosa di questo tipo l'avreste mai fatta nei confronti di un uomo sì sì cara assunta l'avremmo fatta anche nei confronti di un uomo perché io un uomo anche di 25 anni per quanto mi riguarda può guadagnare anche 5 milioni di euro anche 50 milioni di euro ma ci sono due problemi il primo che quei soldi li paghiamo noi secondo che voi ci avete spiegato fino ad oggi che funzionari pubblici politici dirigenti pubblici insomma tutta questa genia qua doveva riprendere molti pochi soldi perché doveva essere al servizio del paese ci avete fatto capire che i vitalizi erano sbagliati ci avete fatto capire che gli stipendi elevati erano sbagliati ci avete fatto capire tante altre cose per esempio ci avete fatto capire assunta che una segretaria di 26 anni di direzione di una come scrive oggi il giornale che sei andato a vedere quanto guadagna la segretaria di marchionne una segretaria di marchionne assunta prima assunzione come la tua la sua mi scusi segretaria assunta per la prima volta dalla fca quanto prende tra i 18 e 35 mila euro quindi anche tanto 72 non esiste non esiste quanto guadagna un primario oggi dopo 40 anni che lavora intorno agli 80 mila euro esattamente come allora a me va benissimo lei sarà straordinaria favolosa venga d'accordo sia d'accordo con me che quella stronzata che ha detto il movimento cinque stelle tutti uguali uno vale uno e che i funzionali pubblici non si devono pagare non vale per lei come per tanti altri suoi colleghi o no o no che cosa cavolo c'entra il sessismo cosa cavolo c'entra il sessismo chiunque utilizzi la parola sessismo per difendere la propria posizione mi fa venire il sangue al cervello perché non ha un motivo migliore per difendere le prerogative che non si è conquistato ma che gli ha regalato il suo amichetto di maio chiaro amichetto di maio non è sessismo è esattamente molto meno di quello che ha detto il vostro leader storico perché lei oltre a essere segretaria particolare e capo della segreteria di un ministero e dell'altro era un attivista del movimento cinque stelle il suo movimento cinque stelle c'aveva mi sembra un leader che si chiama grillo che delle signore che andavano in televisione da floris diceva che sanguinavano un po come diceva trump che probabilmente avevano la mestruazione in quel periodo questo diceva il suo leader storico che si chiama grillo diceva che i giornalisti devono essere mangiati e vomitati che siamo merde che siamo morti che camminiamo quindi buona col sessismo buona buona no andiamo sul concreto ci spieghi perché merita questo in 72 mila euro benissimo ovviamente questa cosa io me la ricordo è come sul caso fini si parla licet perché fini è uno un coglione come si è definito la signorina non lo è quando noi parlavamo di fini c'era sessismo no eravamo la macchina del fango ora c'è il sessismo siamo passati dalla macchina del fango al sessismo fra un po ce ne accorgeremo quando faremo la trasparenza mi piacerebbe per tutti mi piacerebbe vedere e quante volte un momento cinque stelle aveva lamentato gli stipendi eccessivi di segretari assistenti dei vecchi politici intervista conte oggi io vi dico soltanto una cosa quando io leggo l'intervista al presidente conte che persona garbata elegante che ha avuto usi di mondo che dice il manche una cosa però fatemela dire politicamente travaglio l'intervista chi è il leader a cui lei si ispira aldo moro ma in italia in questo momento oggi chi si ispira aldo moro allora io alzo le braccia dico ecco se questo il leader a cui si ispira conte e in cui si ispirano leghisti e movimento 5 stelle cioè il presidente il consiglio di oggi del movimento 5 stelle dell'ide della lega a chi si ispira ad aldo moro poi ci sono tante altre cose mi sembra che faccia fuori l'amministratore delegato dell'eni e descalzi per un avviso di garanzie perché è indagato e mentre il genere di risposte è di questo tipo sul condono e travaglio lo incalza dice no non si tratta di un condono non faremo giuro non faremo il condono dice conte ma chi ha pendenze con il fisco senza colpa le potrà azzerare non faremo il condono giuro ma chi ha pendenze col fisco senza colpa le potremo azzerare certo senza colpa senza colpa che vuol dire senza colpa da te che travaglio dice lo chiamavamo volontari disclosure fa benissimo il direttore del fatto prenderli un po in giro perché insomma adesso e che non chiamano come te pare chi ha lo rileggo bene non fare giuro non faremo il condono ma chi ha pendenze con il fisco che ha pendenze con il fisco senza colpa le faremo azzerare questo è aldo moro in effetti aldo moro bargigia oggi intervistato dal giornale di belpietro e fa bene giornalista di media se ti ha detto una cosa molto semplice con un tweet che potete condividere o non condividere cioè lui ti fava per la croazia e in un twitter non durante la trasmissione la croazia contro il melting pot di razze e religioni dove il concetto di patria in azione è piuttosto relativo avete sentito bene la croazia contro il melting pot di razze e religioni dove il concetto di patria è di nazione è piuttosto relativo se per questo un uomo deve essere considerato e impiccato per razzismo allora siamo tutti razzismi avete capito qual è la cosa che dice dice che lì non c'è un melting pot di razze e di religioni razze e religioni sono tratte esattamente dalla nostra costituzione come dice nell'intervista che oggi fa la verità lui ha questa opinione che il concetto di patria di nazione siano importanti lasciamogli ad avere questo concetto o non si può più avere questo concetto che evidentemente il giornalista unico considera indignitoso e razziale averlo lo mette in questa maniera io devo dire la verità non ti favo grazia non me ne frega niente di fare né francia né croazia ti fa sempre solo italia ma comunque questa frase non mi sembra il putiferio che ha scatenato l'italia al 51 per cento dice toninelli il capo delle infrastrutture voglio chiedere chi si prenderà mai 49 per cento se se lo prende lo stato il 51 voglio proprio capirlo chi che vorrà dire continuare a gestire anzi oggi non è gestita così oggi grazie a gubitosi e commissari è gestita benissimo perché c'è un manager con le contropalle ma abbiamo visto come il tempo titola oggi che dal 2000 oggi dal 2008 oggi abbiamo perso 7,4 miliardi nell'italia caro toninelli questi sono soldi che perderemo noi italiani continuiamo a perderla perché noi vogliamo la compagnia di bandiera bravo secondo me lega il movimento 5 stelle su questo sono totalmente d'accordo cosa vorrà dire questo per i contribuenti italiani ne riparleremo fra dieci anni un po come il decreto dignità può essere una soluzione sicuramente lo è perché attraverso chi passerà secondo le indiscrizioni oggi di repubblica e corriere della sera questa presenza italiana nell'italia attraverso la cassa depositi e prestiti allora mi chiedo e vi chiedo come mai per la quarta volta hanno rimandato all'assemblea che deve nominare i vertici della cassa depositi e prestiti in italia oggi quelli che sostituiscono gallia e costa magna che comunque operazioni per il governo nel passato l'hanno fatta perché la cassa depositi e prestiti che ha il risparmio postale in mano anche se non lo può utilizzare direttamente e ha molte partecipazioni potrebbe entrare nell'italia così come le ferrovie dello stato allora il numero uno della cassa depositi prestiti che oggi devono nominare lega e movimento cinque stelle non è un numero uno qualsiasi ma è un numero uno che potrà essere utile come a tutti i governi del passato sia chiaro non solo a quelli di oggi potrà essere utile per la politica industriale di questo paese quindi per far risolvere il problema l'italia cosa facciamo ci mettiamo il risparmio postale sia chiaro non è una critica a questo governo perché questa è una critica nei confronti di tutti i governi che all'italia da berlusconi a prodi a a tutti i governi che quella roba lì non la lasceranno mai bene per l'italia boh io questo non lo so google prende una multa di 4,5 miliardi perché sostanzialmente su questi telefonini tipo questo qua mio che è un android su questo telefonino è già installato un sistema operativo google che si chiama appunto android e con questo sistema operativo vengono installate 11 applicazioni in automatico la commissione europea li ha multati per 4,5 miliardi e fa titolare alla stampa mi sembra zatterin quando bruxelles funziona quando gli stati stanno tutti insieme contro i poteri forti rampini oggi su repubblica ci dice beh forse non so se questo è il modo migliore perché 4,5 miliardi sono uno sputino non interessa niente domani hanno già un'altra cosa hanno già conquistato il mercato in questo anche se il pezzo è un po confuso di rampini lo dico con simpatia nei confronti di federico e cosa dice rampini il vero modo è avere un'altra google europea come hanno fatto i cinesi avere un'altra amazon europea come hanno fatto i cinesi certo alzando barriere alziando diciamo vincoli anche tecnologici oltre che doganali e forse le multe servono a molto poco boh non lo so comunque un tema affascinantissimo sul quale oggi non ci possiamo approfondire non possiamo approfondire più di tanto non di quei temi che a me piacerebbe discutere un po più a lungo direi che per oggi tutto beh insomma oggi sono tutte le croniche sulla castelli che ieri si è presentata in commissione che non sapeva nulla di economia ma di questo non vorrei parlare 3.500 al mese per i cinque star dice qualcuno 3.300 mesi lino ma insomma 70 mila euro guardate voglio concludere come iniziato per me non mi scandalizzo che la segretaria particolare di di maio prenda tanti soldi non mi scandalizzo o il segretario non me ne frega niente mi scandalizzo per tutto quello che loro ci hanno detto negli anni passati proprio riguardo ai soldi ai segretari agli amici degli amici ai conterrani un quadro prendete un deputato del pd quel deputato del pd a 30 senza mai lavorato in vita sua diventa ministro di un gigantesco ministero mettetevi proprio ferma in cip in testa questo ministro del pd diventa bravo simpatico che vi piace diventa capo di un doppio ministero deve trovare una segretaria sia per un ministero sia per l'altro due segretarie per due ministeri ne sceglie una sola chi è questa segretaria una 26 n perfetto da dove avviene dal suo paese perfetto quanto guarda quanti lavori ha fatto precedenza zero se non aver lavorato con lui stesso prima che lui fosse ministro come vicepresidente della camera a quanti so quanti soldi gli da 75 mila euro all'anno cosa avrebbero detto grillo casaleggio casalino fico toninelli di maio di battista cosa avrebbero detto su questo dubbio amletico vi saluto e vi dico se vi piace questa zuppa condividetela ciao